Un premio di maggioranza è considerato troppo alto, le soglie di sbarramento troppo elevate, la mancata elezione del terzo candidato alla presidenza della regione, il pentastellato Francesco De Zogus, nonostante le elezioni di sei consiglieri del Movimento 5 Stelle. L'insufficienza della disciplina sulla parità di genere che ha portato all'elezione in consiglio regionale di solo otto donne, sono questi alcuni dei rilievi mossi da un ricorso presentato al Tar Sardegna che sarà discusso il 26 giugno dai Comitati Sardi per la Democrazia Costituzionale e dal Comitato d'iniziativa costituzionale e statuttaria rappresentati dall'avvocato costituzionalista Andrea Pubusa. L'obiettivo è quello di sottoporre la legge elettorale della Sardegna all'esame della Corte Costituzionale e di correggere l'atto di programmazione degli eletti in consiglio regionale del 24 febbraio. Questo al fine di arrivare ad una nuova composizione dell'Assemblea Sarda. Punta questo uno dei ricorsi che saranno discussi dal Tar mercoledì. Il solo fatto che il Tar rimetta gli atti alla Corte Costituzionale indurrà il Consiglio regionale a fare una nuova legge elettorale, ha spiegato l'avvocato Pubusa. In questo caso, infatti, la consulta non si potrà pronunciare su un ricorso che riguarda una legge non più in vigore. In questo modo, quindi, l'Assemblea salverebbe se stessa e chi ha interesse salverebbe il proprio seggio. Il dispositivo del Tar potrebbe essere depositato il 27 giugno, mentre la motivazione della sentenza dovrebbe arrivare entro i successivi dieci giorni, salvo problemi con le notifiche che potrebbero far slittare tutto in autunno.